Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Così inizia questo salmo molto bello, che penso che sappiamo anche tutti a memoria, perché lo proclamiamo spesso anche durante la liturgia, oggi, e sarà il salmo della liturgia, anche lo cantiamo spesso come canto alla comunione. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. E oggi la liturgia ci invita ad andare da Gesù, che è il nostro vero pastore, la nostra vera guida, colui che dà senso pieno alla nostra esistenza, colui che riempie le nostre giornate di bellezza, colui che ci dà anche la forza, la pazienza per affrontare tutte le avversità della vita. Nel Vangelo di oggi poi si usa un termine meraviglioso, il termine compassione, cioè Gesù è colui che ha compassione di tutti noi. La parola compassione significa cummo patire, cioè patire insieme. Quindi Gesù si accosta a ciascuno di noi e patisce con noi, cioè ci aiuta a portare con la croce, ma prende anche su di sé le nostre difficoltà, le nostre sofferenze. È l'amico vero, è l'amico che ci consola. E quindi oggi, in questa sedicesima domenica del tempo ordinario, siamo chiamati a prendere Gesù come pastore e come guida, ma come dice anche il Vangelo, anche come insegnante, colui che ci insegna la verità. Anche un termine che viene utilizzato nel Vangelo è quello di maestro. Gesù è il maestro della nostra vita, che ci insegna veramente ciò che è giusto, ciò che è buono, ciò che è bello. Oggi, vedete, la società ci può insegnare tante cose false, tante cose non vere. Ci può orientare verso direzioni che poi, sperimentiamo anche noi, ci portano all'infelicità. Ecco, Gesù invece è colui che ci dà una via che può essere anche un pochettino, alcune volte anche difficile da percorrere, ma che poi approda alla nostra felicità. Gesù, quindi, come lo stesso ha detto, parlando di sé stesso, lui è la via, lui è la verità e lui è la vita. Un'altra cosa molto bella, che dobbiamo dire ancora, un piccolo pensiero, ecco, Gesù ci fa riposare il cuore. Gesù, possiamo dire, tra il Vangelo di oggi, che ascolteremo nella liturgia, possiamo dare anche questa descrizione di Gesù. Cioè, Gesù è il nostro riposo. Gesù è il riposo della nostra anima. Perché, innanzitutto, vabbè, è colui che ci dice la verità, tutto ciò che è buono, giusto e bello, ma è il riposo della nostra anima anche perché ci perdona i peccati e perché in lui troviamo ristoro e riposo. Infatti, il Vangelo di oggi inizia con queste parole. I dodici apostoli erano stati mandati, se vi ricordate il Vangelo di domenica scorsa, portate il bastone, due sandali, non portate con voi nulla, né argento, né oro, né due tuniche, e quindi erano stati inviati ad annunciare il regno di Dio. Gli apostoli ritornano, erano stanchi, erano stanchi, e Gesù dice quella parola, venite con me in disparte e riposatevi un po'. Vedete, anche questo tempo estivo, questo tempo estivo che noi stiamo vivendo può essere anche un tempo in cui ci riposiamo un po' il cuore, no? L'estate è anche il tempo anche di riposo, in cui uno prende un po' di vacanza dal lavoro, no? Così come gli apostoli che torneranno da Gesù e Gesù gli ristori il cuore, e quindi il tempo estivo può essere anche un tempo di riposo. Ecco, io pensavo questo, che alcune volte noi non riusciamo a riposare bene, no? Però il vero nostro riposo è Gesù. Il vero nostro riposo, ad esempio, è la messa, quindi anche vi invito tutti voi che siete forse in vacanza, ecco, vivete in momenti così tranquilli, anche di svago, di divertimento, e c'è anche bisogno di questo, di cercare il riposo nel Signore. Facciamo un esempio. Quando partecipiamo ad una messa e partecipiamo alla messa con tutto il cuore, con devozione, anche una messa fediale, una messa fediale, ci sentiamo meglio, cioè la nostra anima è nella pace. Usciamo dalla Chiesa e sembra che qualcosa sia cambiato in noi. Ecco, è Gesù che ha fatto riposare con la nostra anima, la nostra persona. Quindi, ecco, volevo invitarvi anche in questo tempo estivo a riposarvi e a riposarvi in Gesù. Un'espressione molto forte ancora presente nel Vangelo di oggi è questa. Gesù vive la folla, poi cominciò a insegnare loro perché erano come pecore senza pastore. Quindi, ritorno al fatto che ho detto all'inizio, come Gesù, come guida, quante persone sono senza pastore, quante persone oggi cercano delle guide, poi trovano delle guide sbagliate e poi alla fine dove vanno a finire. Pecore senza pastore. quindi un po' ritornare a Gesù, riunirci insieme con Gesù. Anche le famiglie, vedete, nelle famiglie oggi c'è anche tanta confusione, però quando poi la famiglia riunita comincia a pregare, comincia a mettere Gesù al centro della vita familiare, allora vedete che che la cosa cambia, la vita diventa più bella, no? Anche i dissidi che ci possono essere, le nemici, si vanno via, così dice anche la seconda lettura della liturgia di oggi. Allora, un invito forte di questa sedicesima domenica del tempo ordinario, anno B, mettiamo Gesù al centro, ecco, della nostra vita, della nostra esistenza. Viviamo con Lui, viviamo in Sua compagnia e non ce ne pentiremo perché Lui è la gioia, Lui è la via, la verità è la vita, Lui è il nostro pastore, Lui è colui che ha compassione di noi e ci dà tanta forza e tanta pace nel cuore. Adesso è qua il termine di questo breve pensiero domenicale. Ecco, mi trovo qui davanti alla chiesetta della Madonna del soccorso a Coringa, diciamo un'Ave Maria e poi vi darò la santa benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione della Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato, Gesù Cristo, sempre sia lodato. Per tutti i Coringhesi, ecco, le sante messe di oggi, ecco, saranno celebrate alle 8 e 30, quindi tra 45 minuti nella Chiesa Matrice, poi alle 11 ci sarà un matrimonio nella Chiesa dell'Immacolata e questa sera alle 19 e 30 la Santa Messa sarà celebrata nel Santuario del Carmine. Buona e Santa Domenica a tutti!